Benvenuti su Medicina Informazione Web TV. L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, è una malattia infettiva scatenata dalla riattivazione del virus della varicella. Si tratta di una patologia insidiosa che può avere anche gravi complicanze come la nevralgia post-erpetica, una condizione che ha un forte impatto sulla qualità della vita a causa del dolore che perdura nel tempo. Lo scorso anno oltre 70.000 persone in Italia hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero a causa dell'herpes zoster e questo fa capire quanto sia importante prevenirlo. Sono soprattutto le persone con un sistema immunitario compromesso quelle a maggior rischio, quindi persone di ogni età che hanno patologie o condizioni che deboliscono il sistema immunitario, persone che fanno uso di farmaci immunosoppressori e gli anziani che, anche se in buona salute, vanno incontro ad un fenomeno fisiologico di monoserescenza, quindi di maggior debolezza del sistema immunitario. Ma gli italiani hanno ancora poca conoscenza e consapevolezza su questa patologia e soprattutto sul fatto che oggi sia possibile prevenirla grazie alla profilassi con un vaccino efficace e duratura nel tempo, oltre 10 anni. L'herpes zoster è un virus che costituisce una minaccia per la nostra salute fin da quando da bambini contraiamo la varicella. È lo stesso virus. Quando noi superiamo la varicella questo virus si va a nascondere in alcune cellule del nostro corpo e poiché è un virus che ha la latenza rimane liquiescente, dormiente per tanto tempo. Quando durante la vita abbiamo un calo delle nostre difese immunitarie, il calo delle difese immunitarie può avvenire sia per l'età normalmente, è fisiologico, è una cosa naturale, dopo i 50 anni il sistema immunitario comincia a invecchiare con noi e questo invecchiamento produce una minore efficacia nel contrastare le infezioni. Allora questo è un momento in cui quel virus che era addormentato, che era quiescente nel nostro organismo si risveglia e poiché è presente nei gangli della colonna vertebrale lungo un nervo va a determinare un'infiammazione. Questa infiammazione è l'herpes zoster o fuoco di Sant'Antonio perché dà un dolore urente, quindi bruciante, ecco perché si chiama fuoco di Sant'Antonio nella vulgata, ma in realtà l'herpes zoster è una minaccia temibile perché oggi noi abbiamo tante possibilità di avere un calo dell'immunità, lo abbiamo come abbiamo già detto fisiologicamente, naturalmente per invecchiamento, quindi le persone che vanno incontro a un'età più avanzata hanno un maggior rischio, ma lo abbiamo anche nelle persone più giovani perché tante terapie, tante cose che oggi vengono fatte per curare altre malattie e comunque tutte le malattie croniche dal diabete alle malattie cardiovascolari, alle malattie broncopolmonari, sono determinate da una deficienza dell'immunità, da un difetto immunitario. Allora tutte queste situazioni creano le opportunità per cui l'herpes zoster si può manifestare. Oggi noi sappiamo che non c'è un'età della vita che è esente dalla possibilità di poter fare l'herpes zoster, certo è più probabile che avviene nelle condizioni di maggior rischio, quindi nell'età più avanzata o nelle condizioni di patologie intercorrenti o sottostanti alla nostra vita, alla nostra salute. Quello che certamente però è vero è che contrarre l'herpes zoster è assolutamente provante dal punto di vista della vita perché è un dolore ed è una malattia che dura per tanto tempo, che ha delle complicanze perché la neurologia posterpetica dura per tanti mesi e chi ha l'herpes zoster non può stare a contatto della pelle con nessun tessuto, nemmeno con il lenzuolo. Allora per i pazienti che ce l'hanno è davvero una tragedia ed è drammatico, non tanto per la possibilità di perdita di vita quanto per la qualità della vita, perché si perde sonno, si perde voglia di vivere, si è depressi. E allora perché affrontare tutto questo, visto che oggi abbiamo la possibilità anche di evitarlo l'herpes zoster, avendo una vaccinazione che è quello che io chiamo sempre, fino ad ora, un bisogno medico non soddisfatto. Noi avevamo già un buon vaccino per l'herpes zoster, ma era un vaccino che non era adatto alle persone che più ne avevano bisogno, cioè le persone immunodepresse. Oggi invece abbiamo un vaccino, che è un vaccino proteico, ricombinante, assolutamente consigliato proprio per le persone che hanno un immunodepressione, che sono soggette a un calo dell'immunità o naturale o terapeutico e che quindi possono avvalersi di una vaccinazione che ha una durata più che decennale, che viene fatta e che non dà particolari problemi assolutamente, ma dà soltanto protezione e che ci permette di evitare questa malattia. In occasione della Shingles Awareness Week, la settimana internazionale di sensibilizzazione sull'herpes zoster, è stato svolto un sondaggio globale dal quale emerge che due persone su dieci non sanno cosa sia l'herpes zoster, che solo il 10% considera probabile svilupparlo, sottovalutando quindi il rischio dal momento che i dati ci dicono che una persona su tre è invece a rischio di sviluppare almeno un episodio di herpes zoster nel corso della vita. E anche la prevenzione e la consapevolezza è molto scarsa, tant'è che il 62% degli intervistati considera il vaccino una valida opportunità, ma solo il 30% ne conosce la disponibilità. Aumentare quindi la conoscenza e l'informazione su questi temi è un traguardo a cui puntare e le associazioni pazienti in questo senso possono essere parte attiva. Le associazioni pazienti in Italia hanno un importante ruolo e oggi noi stiamo parlando di informazione da parte delle associazioni, informazioni in questo caso sull'herpes zoster e sul vaccino per prevenirlo. E le associazioni veramente hanno un ruolo fondamentale e ce l'hanno perché possono portare questa informazione capillarmente presso i propri associati, ma non solo presso gli associati, presso le persone che si avvicinano all'associazione per vari motivi. Noi abbiamo in Italia circa 4.000 soci, ma abbiamo poi delle pagine social che sono seguitissime e quindi anche attraverso i social si può fare informazione corretta. Noi consigliamo a tutte le persone che seguono la nostra associazione di non andare sui social, a chiedere informazioni, a cercare informazioni, di rivolgersi a siti, di visitare siti certificati, ma in questo caso devo dire che se l'informazione viene cercata e viene cercata in maniera corretta si avrà anche un'informazione attendibile e non si cadrà nelle fake news. Quindi il ruolo delle associazioni di pazienti ha tutta una serie di peculiarità importanti che devono essere messe a frutto. In questo caso oggi noi cerchiamo di raccontare ai pazienti quello che è una patologia gravissima, prevenibile e quindi se si può prevenire è importante a questo punto vaccinarsi. Come paziente oncologica mi permetto di consigliare ai pazienti fragili, quali noi pazienti oncologici ci siamo, la consapevolezza di quello che è la malattia Herpes Zoster che come dice il nome è il serpente che ti attanaglia, che ti stringe e questo è chi ha conosciuto la malattia e chi di noi non ha avuto un parente, un amico con questa malattia e ha visto quanto il dolore può essere attanagliante e la conseguenza possibile, un dolore che continua nel tempo, mesi e delle volte anche anni. Quindi mi sento di consigliare il vaccino, soprattutto a noi pazienti fragili, perché il vaccino previene la malattia. Se possiamo evitarci questo, che è una malattia che può lasciare conseguenze importanti, tanto più in un momento in cui il sistema immunitario tende a venire meno e chi come noi lo è, direi che basandoci sulla sicurezza degli studi scientifici che ormai ammontano a centinaia, mi sento di consigliare la prevenzione. Si è parlato di tutto questo nel corso dell'evento Settimana Internazionale di Sensibilizzazione sull'Herpes Zoster, miti e realtà della malattia in Italia e nel mondo, promosso da GSK e tenutosi nella sede romana di ADN Kronos. Nel corso dell'incontro è stato ricordato che per offrire uno strumento sicuro di informazioni scientificamente validate sull'Herpes Zoster è attiva la campagna di comunicazione con un sito dedicato, proteggiti dal fuoco di santantonio.it, dove poter trovare risposte ai propri dubbi sulle categorie a rischio e sulle persone per cui è consigliata la profilassi. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e arrivederci qui su Medicina Informazione Web TV.